Mentre registro è 24 giugno 2020, ma penso di far uscire la premiere con un giorno di ritardo. Voglio parlare di un canale YouTube chiamato Non Solo Chimica. Infatti il canale parla di chimica e di matematica. Non so se parla anche di altre scienze, per ora no. Il canale è stato aperto recentemente, quindi... No, che sto a dire, è stato aperto il 7 dicembre 2018. Ma forse è attivo da poco. Io ieri ho saputo l'esistenza di questo canale, grazie a Francesco Narmenni. Non ricordo come si chiama l'autrice del canale Non Solo Chimica, con cui leggo il tasto di presentazione. Ciao a tutti, sono una biologa che da anni svolge la professione di insegnante. Ho pensato di mettere la mia esperienza a favore degli studenti vicini e lontani che hanno bisogno di ripetizioni o approfondimenti di alcuni argomenti fondamentali. Qui troverete video di matematica e chimica, utili dalla scuola media fino all'università. Benvenuti e buono studio a tutti, ragazzi. Allora, vi faccio vedere il canale. Ecco, qua c'è il testo di presentazione. Il canale è attivo dal 7 dicembre 2018 e per ora ho avuto 64 visualizzazioni. Ci sono 30 iscritti e tra questi ci sono io. Ogni viaggio inizia con il primo passo. L'autrice spiega molto bene i monomi. La prossima volta ascolterò le lezioni sui prodotti notevoli. E poi seguirò anche le lezioni di chimica, ovviamente. Per ora non ci sono playlist e va bene. Mi sa che l'autrice del canale punta molto sulla qualità e poco sulla quantità. Sì, mi sa che ci tiene a fare le cose per bene. In questo momento non so cos'altro dire. Io ho conosciuto l'autrice di questo canale ieri seguendo un'intervista di Francesco Armenni su Twitch. l'intervista è stata molto interessante, poi eventualmente ve la indicherò. Per ora chiudo qua. Grazie per l'attenzione.